Andrea, partiamo da te, dal tuo studio, di che si occupa, però non posso esimermi. Mi hai detto, no, io ho visto altre interviste di Archie Energy, si parla di efficientemente energetico, ma semplice è farlo sul nuovo, sulla ristrutturazione è un po' più difficile, infatti parleremo di quello, però partiamo prima da te. Allora, io sono Andrea Ronca, architetto esercito a Verona, mi sono formato per quanto riguarda l'aspetto energetico frequentando corsi su Bolzano presso l'agenzia Casacrima. Sono diventato consulente e ho un approccio molto anche pragmatico su quello che è il progetto e per quanto riguarda l'esecuzione. Ovviamente l'aspetto energetico diventa parte integrante dello studio, però questo non significa che la parte estetica o formale sia secondaria, anzi, deve andare di pari passo. Infatti ho intravisto, mi hai mandato il progetto di oggi, devo dire molto curato nei dettagli con questa buiserie veramente costruita al millimetro. Questo chiaramente per soddisfare poi le esigenze di un cliente che della parte energetica forse apprezza il risultato finale, cioè quanto effettivamente consuma alla fine del lavoro. però devo dire che l'aspetto particolarmente significativo è lo studio che deve essere fatto precedentemente nella fase proprio di analisi dell'esistente, una diagnostica molto attenta per capire effettivamente quali sono le problematiche dai ponti termici o i problemi che in un certo senso si instaurano in edifici, come nel mio caso, fatto negli anni 70. quindi c'è un rigore in un'analisi, in una progettazione che tiene conto della risoluzione dei problemi e che poi attraverso l'utilizzo anche di software si va proprio a verificare temperature interstiziali e in questo caso dare risoluzioni precise sull'applicazione di isolanti o tecnologie che possono utilizzare in questo senso. Una volta si faceva il rilievo, adesso si fa anche da tempo il rilievo energetico, ma mi hai fatto vedere alcuni diagrammi, alcuni studi, proprio molto attenti soprattutto su un progetto che prevede un isolamento interno, come in questo caso. Ecco, l'approccio proprio per questo motivo, cioè di fare un isolamento all'interno, nel mio caso ho fatto un isolamento di ben 14 centimetri. Fare 14 centimetri di isolamento all'interno significa valutarlo con ad esempio un programma che è i Wufi. Wufi è un programma che studia la condensazione interstiziale in maniera dinamica. Questo permette al progettista di utilizzare materiali che siano più traspiranti e che diano la possibilità all'umidità di agire in un modo più controllato. Ovviamente nel mio progetto è stato anche pensato di introdurre un impianto di ventilazione meccanica per controllare in maniera precisa la quantità di umidità relativa all'interno dell'ambiente. Che dati avete ottenuto per essere molto sintetici? Allora, l'edificio da un punto di vista energetico siamo sui 24 kilowatt per metro quadro anno, quindi siamo in una classe A. Attualmente l'utilizzo del fabbricato viene appunto monitorato con una temperatura interna di 22 gradi, un'umidità relativa al di sotto del 47% e un consumo dell'anno scorso della bolletta di 280 euro di gas, quindi molto basso per quanto riguarda il consumo dell'utilizzo del fabbricato. Sei consulente a Casa Clima, mi piacerebbe farti una domanda su quale tipologia di progetto ti piacerebbe affrontare che non è ancora affrontato? Che cosa vorresti progettare? Il mio sogno, ma il sogno credo di molti, è quello di progettare un edificio che non sia passivo ma attivo. Cioè un fabbricato che non solo riesca a consumare nulla, quindi da un punto di vista ambientale non produrre nessun tipo di inquinante, ma addirittura diventi esso stesso produttore di energia e quindi fautore di un fabbisogno che può essere poi distribuito. Quello sarebbe un po' il sogno forse non mio, ma di tanti architetti che si occupano di basso consumo. Perché poi il concetto è quello, occupi uno spazio, quindi in qualche modo quello spazio lì lo puoi fare fruttare. Nel mondo dell'auto ci sta pian piano arrivando, anche se ovviamente è lontanissimo il break even, forse in una casa o in un edificio è un po' più raggiungibile in tempi brevi. Sì, il raggiungimento di questi obiettivi è sempre legato poi anche alla sensibilità di chi ti commissiona il lavoro. Perché la sensibilità gioca un ruolo importante sia per quanto riguarda le concessioni sulle tecnologie o su il confezionamento dell'involucro. In agenzia Casa Clima l'importanza dell'involucro è fondamentale per il raggiungimento di risultati a lunghissimo termine. La parte impiantistica addirittura potrebbe essere sottodimensionata per garantire ovviamente un minore inquinante e un minore impatto negativo nei confronti dell'ambiente. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie.